Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano possibili disagi tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese chiusure e modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!